A dieci anni dal terremoto dell'Aquila, nessuna scuola in città è stata ricostruita. Questa è la mare realtà. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà alla Maria Eleventri il 16 settembre prossimo ad inaugurare l'ennesimo anno scolastico degli studenti aquilani nei MUSP, quei moduli che dovevano essere solo provvisori. E se il comitato oltre il MUSP non ha fatto mai mancare l'attenzione su questo tema, e mentre gli studenti del liceo per il decimo anno inizieranno una nuova stagione, in ben quattro serie diverse, l'obiettività dei fatti vede ancora una situazione in alto mare per alcune vicende. Da un punto di vista comunale, intanto, c'è il piano definitivo d'assetto dell'edilizia scolastica che è stato approvato in giunta, ma il vice sindaco e assessore alle opere pubbliche Raffaele Daniele vuole portarlo necessariamente in consiglio comunale, perché su grandi temi bisogna avere condivisione, così ha detto. Sarà il consiglio comunale dunque a dire l'ultima parola per arrivare all'approvazione definitiva nel piano. Raffaele Daniele fa anche il punto sulle questioni di edilizia scolastica. I lavori sono stati avviati su tre plessi, Mariele Ventre di Pettino, primaria di Arischia e primaria di Paganica, con la speranza di inaugurarle entro un anno. Sono in fase avanzata i plessi di Sassa, c'è il progetto e stanno per iniziare i lavori, ha detto, e Gignano Torretta, su cui si è lanciato un concorso di idee, ricevendo oltre 100 proposte progettuali. Alcuni plessi presentavano delle criticità, dice il vice sindaco, altri dove si doveva stabilire se privilegiare la funzionalità o l'appartenenza territoriale. Ho fatto delle scelte che, lo ripeto ancora, non sono blindate. Tra le altre cose si è stabilito di ricostruire la scuola primaria a bagno, che in un primo momento si era pensato di accorpare con il plesso di Pianola. In questo caso abbiamo voluto privilegiare l'appartenenza territoriale e l'economicità dell'intervento, per garantire un presidio scolastico ai cittadini di bagno. Per praticità, invece, stante i finanziamenti già erogati dal Cipe, è rimasta invariata la proposta di accroppare alcuni plessi, che attualmente insistono nel raggio di 500 metri tra il Torrione e San Francesco alla Caserma Rossi.